Chiaramente noi siamo degli alpinisti quindi eravamo lì in Antartide per salire delle montagne, però ci siamo subito resi conto che la roccia qui era veramente friabilissima, bruttissima, perché erano degli affioramenti dove prima c'era ghiaccio, quindi abbiamo dovuto subito optare per altre salite e un altro genere di arrampicata e abbiamo dovuto puntare a dei canali di ghiaccio che sarebbero sicuramente stati più sicuri. La parte più emozionante è stata quella di aprire due vie su montagne mai salite da nessuno. È stata insolita la discesa guidata via radio dalla barca che ci ha permesso di attraversare tutta la parte seraccata per poter arrivare all'ultima doppia direttamente sul gommone. Grazie a tutti.